Grafica Veneta è un caso veramente emblematico e anche se apparentemente sembra chiuso vale sempre la pena tornarci e riflettere. Innanzitutto sul fatto che il caso Grafica Veneta nasce da un'indagine dei carabinieri per reati specifici, nel senso che i lavoratori pakistani vengono ritrovati nel maggio 2020 lungo la statale 16 legati, picchiati, rapinati e da qui nasce un'inchiesta che porta i carabinieri poi nel luglio del 2021 alla Grafica Veneta. Va sottolineato il fatto che non nasce dall'internità della fabbrica da una denuncia di quello che accadeva in fabbrica ma accade proprio per un'indagine dei carabinieri. I carabinieri arrivano dopo aver investigato e scoprono che una cooperativa, la BM Service, si occupa di gestire un certo numero di lavoratori pakistani all'interno di Grafica Veneta. Sono lavoratori fantasma, non esistono di fatto e nemmeno gli altri lavoratori si accorgono della loro presenza, vengono gestiti da diversi energumeni della BM Service che li prendono, li costringono a vivere in una casa fatiscente li portano e li riportano in furgone, hanno la scheda per poter entrare e uscire tranquillamente dai cancelli di Grafica Veneta e qui viene fuori la verità, una verità di sfruttamento di caporalato. La parola caporalato non aveva mai avuto questa dimensione così netta all'interno del nostro territorio, c'era stato tutto lo scandalo del caporalato rispetto ai cantieri di Monfalcone, c'era il caporalato rispetto ai lavoratori agricoli, ma che accadesse in una fabbrica, che è in un'azienda che era il fiore dell'occhiello del nostro governatore regionale e in generale della Confindustria Veneta, è stato qualcosa che ha impattato tutta la società, è stata una notizia a livello nazionale, anche perché Grafica Veneta è il più grande stampatore a livello europeo di libri, con anche filiali negli Stati Uniti. Quindi uno scandalo, uno scandalo che però non è riuscito a impattare più di tanto la società civile. Se ne hanno parlato all'inizio le prime pagine dei giornali, dopodiché la notizia è caduta di interesse. Cos'è successo? È caduto? È successo che c'è stata un'avvertenza durante la quale l'azienda ha avuto un atteggiamento assolutamente strafotente. Fingeva di ascoltare, fingeva di stare ai tavoli, poi in realtà non concludeva assolutamente mai nulla. E così è andato avanti per tempo, anche se quello che aveva accertato la Procura Repubblica era assolutamente chiaro. Questi lavoratori venivano sfruttati all'interno. erano schiavi all'interno di Grafica Veneta. A un certo punto, nell'ottobre del 2021, Patron Franceschi rilascia una serie di interviste, in particolare alla stampa, dove racconta se stesso, racconta il suo rapporto con la fabbrica, con questa vicenda dei lavoratori pakistani in maniera molto chiara. dice che sono una serie di dichiarazioni all'impronta del razzismo, in maniera molto chiara. Conosciamo tutte le dichiarazioni che ha fatto. Sono dichiarazioni estremamente pesanti, ma estremamente chiare, di quello che un certo tipo di ceto imprenditoriale veneto pensa rispetto all'uso dei lavoratori stranieri nel nostro territorio, cioè l'ipersfruttamento. Questo ha causato un problema di immagine molto grosso a Grafica Veneta e ovviamente rispetto a questo era una caduta, non è stata solo una caduta di stile, ha messo profondamente in crisi tutta la strategia dell'azienda che stava perdendo, ma evidentemente ben consigliata magari dall'avvocato Spata, che è l'avvocato di Grafica Veneta. a un certo punto hanno trovato una sorta di soluzione. La sorta di soluzione è stata quella di trovare un accordo con la comunità pakistana. Ben giocata anche a livello mediatico, sono stati assunti alcuni lavoratori e altri invece non sono stati per nulla assunti, ma dal punto di vista di quello che appare all'esterno appare una sorta di riconciliazione con il mondo dei lavoratori pakistani, ben gestito anche dalla comunità pakistana. Ovviamente una sorta di vittoria a metà in qualche senso, però per che cosa è passata? È passata per il fatto che questi lavoratori sono stati obbligati a disdire il loro rapporto con ADL Cobas, che era una questione invece fondante perché è stato il sindacato che più di tutto li ha appoggiati, insieme anche alla FIOM, li ha appoggiati in questo tipo di vertenza. Quindi rimane ancora la questione di Grafica Veneta una ferita profondamente aperta, su cui vale la pena continuare a ragionare, anche perché la situazione non si riflette solo in Italia, ma per esempio la comunità pakistana è riuscita a strappare anche alcune assunzioni a Chicago, dove Grafica Veneta ha una sede. Allora, l'impatto. Noi ci saremmo aspettati un impatto diverso di questa storia rispetto a quello che è il mondo della cultura. Grafica Veneta stampa la maggior parte dei libri che vengono poi venduti nelle librerie italiane, eppure la reazione del mondo culturale è stata estremamente risicata. Ma questo c'è una spiegazione, ci sono due livelli di spiegazione. Il primo è del ruolo del mondo della cultura oggi, che è quello di depotenziare il conflitto sostanzialmente, questo possiamo approfondire poi. Ma anche il fatto che il mondo della cultura, il mondo dell'editoria, e voi non dovete pensare solo all'editore e a chi lavora nelle case editrici, ma anche al mondo dei festival, agli uffici stampa, tutto quello che ci sta intorno, ormai da tantissimi anni si fonda sul precariato. Io ricordo un intervento di Sergio Bologna dieci anni fa, del 2012, che denunciava il precariato all'interno del mondo dell'editoria. E quindi le case editrici più di tanto non hanno preso posizione, se non le solite, e questo equivale anche per moltissimi autori che non hanno preso posizione per non mettere in imbarazzo i loro editori. E quindi Grafica Veneta ha questo tipo di caratteristiche che continuano a renderlo un caso estremamente importante, non solo per il nostro territorio, ma a livello nazionale.